Se ti va, buongiorno a tutti, ben arrivati, primo webinar del ciclo accountability e la logica di governo aperto, oggi appunto parliamo di accountability e parliamo di come la tracciabilità dei processi gestionali pubblici possa in qualche modo essere funzionale all'accountability delle pubbliche amministrazioni. Prima di iniziare a guardare più vicino i contenuti proviamo a raccontarvi per un istante qual è l'ambito in cui ci muoviamo, nel senso che come Formats.pi e Dipartimento della Funzione Pubblica da circa un paio d'anni portiamo avanti un progetto che si chiama OpenGov, metodi e strumenti per l'amministrazione aperta, è un progetto OpenGov che è un programma operativo nazionale che ne invia di conclusione proprio negli ultimi mesi. L'ambizione del progetto, l'obiettivo del progetto era quella di rafforzare le politiche di governo aperto nelle pubbliche amministrazioni italiane. È un progetto ampio, è un progetto che ha avuto più linee e più attività, è un progetto che va avanti da circa un paio d'anni, coinvolge tutta una serie di amministrazioni e in particolare risponde alla necessità italiana di dare continuità ai piani operativi di Open Government nazionale. In questo momento siamo al quinto piano d'azione per il governo aperto e nell'ambito di questo progetto, come vi dicevo abbastanza strutturato e previsto tutta una serie di azioni, abbiamo ritenuto utile sin dalla fase di progettazione far partire dei momenti di lavoro a quattro mani con alcune amministrazioni italiane. Nell'ambito del progetto si chiamano percorsi pilota di governo aperto che da quando il progetto è partito ci ha dato modo, vi confesso che è stata una delle attività più interessanti su cui almeno siamo stati coinvolti direttamente nell'ambito del progetto OpenGov, di lavorare a quattro mani con alcune amministrazioni, sono quelle che vedete in questa slide e l'idea è stata quella appunto di provare, ipotizzare, progettare e realizzare insieme azioni di governo aperto. Nella maggior parte dei casi l'ambito, rispetto ai vari temi trattati dal governo aperto, l'ambito individuato è stato quello della partecipazione pubblica e a questo proposito tra queste amministrazioni che hanno avuto modo di partecipare al progetto OpenGov attraverso la linea di attività percorsi pilota c'è appunto la Regione Emilia-Romagna con cui, non lo dico per piageria, abbiamo avuto la fortuna di lavorare nell'ultimo anno e mezzo, che immagino sappiate che la Regione Emilia-Romagna, adesso ce lo racconteranno meglio, però la Regione Emilia-Romagna ha una forte tradizione di partecipazione pubblica, di civic engagement, di coinvolgimento diretto dei cittadini, dell'associazione di categoria nello sviluppo e del monitoraggio delle politiche pubbliche e quindi con la Regione Emilia-Romagna abbiamo lavorato l'anno scorso una prima pezzo del progetto pilota, a cui se ne è aggiunto un altro quest'anno. Certamente nel corso di questi webinar avremo modo di raccontarlo anche in prima battuta, in prima persona, dando voce ai colleghi della Regione Emilia-Romagna con cui abbiamo avuto la fortuna di lavorare nell'ultimo periodo. Alcune, rapidamente, alcune cose su cui abbiamo lavorato insieme con la Regione Emilia-Romagna negli ultimi anni, innanzitutto la piattaforma partecipazioni, che trovate l'indirizzo in basso in questa slide, è la piattaforma di partecipazione, di processi di consultazione pubblica e partecipazione della Regione Emilia-Romagna, che ne aveva già una prima che iniziasse questo progetto pilota e insieme abbiamo avuto modo di lavorare a questa nuova installazione, che tra l'altro è basata sul software Desi, un software open source a disposizione di tutte le amministrazioni pubbliche, magari anche su questo torneremo certamente a parlarne. Sempre all'ambito del progetto pilota, con la Regione Emilia-Romagna abbiamo realizzato un processo partecipativo ampio, strutturato, che è durato a lungo, anzi che ancora deve arrivare a conclusione, che è il processo trasformazioni, anche di questo avremo modo di parlarne tra un attimo, l'idea era quella di coprogettare il piano triannale formativo per la partecipazione in Regione Emilia-Romagna, il processo partecipativo, come vi dicevo, è andato molto bene, è stato molto strutturato e ancora una volta torno a ribadire quanto sia stato prezioso per noi avviare questa collaborazione con i colleghi della Regione Emilia-Romagna. Abbiamo anche pensato l'anno scorso di partire in maniera molto simile a come stiamo facendo adesso, con una serie di seminari online del tutto simili a questi, che potessero in qualche modo accompagnare questa azione pubblica. Si è concretizzata in questo primo ciclo di webinar, andato in onda a maggio dello scorso anno. L'idea in quel caso era di introdurre i temi del governo aperto rispetto al progetto pilota della Regione Emilia-Romagna, ci sono stati tre webinar su eventi PA, in maniera del tutto simile a come trovate i webinar di questo ciclo, ci potete trovare tutte le registrazioni, le slide e le descrizioni dei seminari che si sono stati svolti l'anno scorso. Tutto quello che vi racconto rispetto alle azioni intraprese nell'ambito del percorso pilota della Regione Emilia-Romagna lo trovate descritto molto meglio di come vi ho fatto io adesso, quindi molto più articolato, con tutti i link puntuali e con tutte le informazioni di dettaglio. Su questa pagina del sito OpenGovity il link è attivo, sì, in basso. È una scheda di racconto dove potete trovare tutte le informazioni che hanno riguardato il progetto pilota e che in qualche modo lo stanno riguardando ancora, quindi è una scheda in progress, però comoda perché vi dà una visione d'insieme e soprattutto vi dà tutta una serie di link puntuali alle attività svolte. Su questo certamente nell'arco dei prossimi due seminari che avremo modo di fare insieme magari torniamo a raccontarvelo in maniera un po' più dettagliata. Fatta questa indispensabile premessa per capire più o meno qual è l'ambito, dove ci muoviamo, a cosa vogliamo arrivare, qual è la storia trascorsa rispetto al progetto pilota della Regione Emilia Romagna. Torniamo a parlare invece di questo ciclo di seminari online. Ne abbiamo ipotizzati tre, uno è quello che si sta svolgendo in questo momento, cioè dedicato alla tracciabilità del processo decisionale pubblico come leva di accountability, come aumento di accountability. Mercoledì 26 aprile, stesso orario, va in onda il secondo webinar dove ci concentriamo un po' di più sulle ricadute dell'informazione governativa aperta, cioè su come i dati aperti in particolare, ma in generale qualunque trasferimento informativo dall'amministrazione verso l'esterno diventa occasione, diventa occasione di trasparenza e certamente motore di accountability. Infine abbiamo pensato di chiudere questo ciclo dei seminari mercoledì 3 maggio, sempre allo stesso orario, dalle 11.30 alle 13, guardando la comunicazione come momento di supporto all'accountability delle politiche pubbliche. Quindi l'idea era quella di provare a guardare il tema dell'accountability nella logica di governo aperto e farlo attraverso questi tre momenti, tracciabilità del processo decisionale, trasferimento informativo, quindi possibilità di accesso all'informazione pubblica e comunicazione pubblica a supporto dell'accountability. Quali sono gli obiettivi didattici che ci siamo posti, che abbiamo provato a ipotizzare nel momento in cui abbiamo buttato giù questo programma di tre webinar? Guardate, innanzitutto quello di provare a ragionare insieme a voi e insieme davvero vorrei rilanciarla, nel senso ci piacerebbe avviare una discussione, un ragionamento fatto insieme a tutti i partecipanti di questo ciclo di seminari, quindi davvero qualunque riflessione, domanda, ragionamento che vi dovesse venire in mente, non esitate a utilizzare la chat o il contenitore domande per chiedere e provare a ragionare insieme a noi. L'idea è quella di provare a proporre un concetto di accountability in logica di governo aperto che sia infrastrutturale rispetto all'azione pubblica, al pari della trasparenza, dell'economicità, dell'accesso all'informazione, al pari di tutte quelle caratteristiche che dovrebbero dare forma alle politiche pubbliche affinché possano davvero essere efficaci. L'accountability dal nostro punto di vista è certamente uno di queste e ci piacerebbe ragionare insieme a voi su come questa cosa possa, in parte lo sia già, ma possa sempre di più diventare parte del modo in cui vengono disegnate le politiche pubbliche attuate, realizzate e monitorate. Secondo obiettivo didattico, certamente non sottoposto il primo funzionale a quello appena descritto, è di raccontare come l'Emilia-Romagna nell'ambito del tema dell'accountability stia declinando il proprio ruolo di pubblica amministrazione d'avanguardia rispetto a alcune iniziative portate avanti della regione, quindi provare a raccontare insieme con l'aiuto della regione Emilia-Romagna e oggi abbiamo Silvia Martini che ci racconta un pezzo dell'accountability, di come la regione Emilia-Romagna stia declinando la propria funzione pubblica rispetto al tema dell'accountability e di farlo così in avanti, quindi abbiamo previsto per ognuno di questi tre webinar un momento di racconto da parte della regione in cui proviamo a scoprire com'è che in regione Emilia-Romagna stanno funzionando le cose in questo momento. Altro obiettivo più o meno didattico che sempre ci siamo posti nel disegno di questi webinar, come vi dicevo nell'ambito del progetto pilota con la regione Emilia-Romagna abbiamo realizzato un processo partecipativo di ampio respiro che appunto si chiama trasformazioni, l'idea era quella di coprogettare e mi sembra che abbia funzionato, insomma poi le colleghe della regione Emilia-Romagna ce la racconteranno meglio, il piano trianale formativo che risponde a un'esigenza specifica che è quella di dare continuità alla legge regionale sulla partecipazione pubblica, la legge 15 del 2018, attraverso un'applicazione pratica di come il coinvolgimento dei cittadini, il coinvolgimento delle imprese e dell'associazione di categoria possa rafforzare alcune politiche pubbliche, in questo caso le politiche pubbliche tecniate sul tema della formazione. Come vedete, ve lo marco un po' di più, attualmente il processo partecipativo è nella sua fase di accountability, quindi abbiamo provato a prendere spunto proprio da questo passaggio per provare a immaginare una serie di seminari online in cui riflettiamo insieme su che cosa significa questa parola e come può rafforzare le politiche pubbliche e quindi di supportare anche questa fase, questa fase conclusiva del processo partecipativo trasformazioni, appunto rilanciando il tema dell'accountability in logica di governo aperto e raccontando modo di raccontarlo, di prenderci un po' di tempo in tre seminari da un'ora e mezza per raccontare com'è che sta funzionando questa cosa all'interno della regione Emilia Romagna. Alcune note tecniche, come avete visto se siete qui ci siete sicuramente passati, ancora una volta grazie di aver scelto di trascorrere con noi questo tempo. Ci si iscrive a questi seminari attraverso questa pagina di 20PA, la pagina resterà la stessa per tutti e tre i seminari, quindi significa che dal momento che siete qui adesso vi arriverà, esattamente come vi è arrivata questa mattina, una mail che vi invita a fare accesso all'aula nei prossimi due appuntamenti. Considerate che per noi questa pagina è un po' il centro, nel senso che in questo momento trovate già pubblicate su questa pagina le slide che state vedendo e le slide che proietterà tra un pochetto Silvia Martini e di qui a tempo di scaricarla e di ricaricarla su YouTube e embeddarla su questa pagina ci trovate anche la registrazione integrale di questo primo seminario. Avverrà la stessa cosa per tutti e tre, ve lo dico perché sempre in logica di governo aperto, di accesso all'informazione pubblica e di condivisione del lavoro fatto, l'idea è quella di provare e condividere attraverso questa pagina tutti i materiali sviluppati nell'ambito di questa piccola azione di accountability all'interno del processo partecipativo. Detto questo, se su questo ci sono domande non esitate a utilizzare la chat o il contenitore domande per chiederci qualunque cosa vi dovesse venire in mente. Fatta questa prima introduzione, mi auguro di aver portato via troppo tempo, ma era il primo seminario di questa idea, quindi pensavamo fosse opportuno inquadrare da un minimo di contesto rispetto a come abbiamo pensato questa attività e al luogo in cui avviene. Proviamo a parlare un po' più da vicino del tema di oggi, cioè di accountability, questa parola pure difficile da pronunciare e assolutamente difficile da scrivere. Accountability è una parola inglese, non utilizziamo una localizzazione italiana del termine accountability per tutta una serie di ragioni che vedremo meglio più avanti. Restando un attimo sul termine inglese, di fatto la parola è una crasi tra due concetti diversi, il concetto di account che può essere tradotto come conto, resoconto cronaca, stando a una definizione più letterale, in realtà significa dare conto e ability che appunto è abilità. Quindi accountability è la capacità di un soggetto di essere, di dar conto delle proprie azioni, di come sta svolgendo le proprie azioni, di farlo in maniera sostiva, in maniera consapevole, in maniera funzionale a qualche cosa. L'idea, io ho preso questa definizione da Wikipedia, anche qui Wikipedia che possiamo considerare la definizione più condivisa possibile, utilizza il doppio termine sia in inglese che in italiano localizzando con rendicontabilità che è una parola abbastanza forzata e appunto si concentra sulla capacità di rendere conto delle conseguenze delle proprie azioni. Chiaramente è un concetto che si avvicina al concetto di responsabilità, peraltro è interessante come Wikipedia parli di concetto continentale di responsabilità, su questo continentale ci arriviamo tra un istante. Però tutto questo per dirvi che effettivamente c'è un problema nella localizzazione italiana di questa parola. Brevissimo inciso per rispondere alla domanda di Giuseppe che è appena posto, sì, nel senso che alla fine dei tre webinar sarà rilasciato il solito attestato di partecipazione che viene rilasciato in tutti gli eventi di eventi IPA, quindi chiunque di voi che siete iscritti continuando a seguire certamente arriverete all'attestato. Vi stavo dicendo perché concetto continentale di responsabilità, nel senso che c'è un dibattito aperto intorno a questa cosa che a mio avviso è molto interessante sul perché il concetto di accantabilità sia più facile da masticare per i popoli anglosassoni rispetto ai popoli continentali, come dice Wikipedia o comunque per le altre. C'è lo stesso problema nella localizzazione del termine, ce l'abbiamo noi, ce l'abbiamo gli spagnoli, ce l'abbiamo in Grecia e ci sono varie spiegazioni per questa logica. Nella maggior parte dei casi il ragionamento è culturale, nel senso perché ci sono alcune nazioni più pronte all'accountability rispetto ad altre, proprio a riceverlo nella propria lingua, quindi non usarlo come concetto. Una delle spiegazioni che a me diverte molto è quella che dice che i paesi che hanno ricevuto, che a un certo momento si è diffusa la religione delle cosiddette chiese riformate da Lutero in poi, sono naturalmente più predisposte al concetto di accantabilità perché hanno un'interpretazione meno dogmatica della religione. Nel nostro caso la nostra cultura cattolica ci pone a pensare ad alcuni dogmi a cui ci si deve attenere per, nel caso delle chiese riformate, nel galvinisti e via discorrendo, la logica si inverte, come se il credente deve essere in grado di rendicontare le proprie buone azioni, le proprie cattive azioni rispetto a un eventuale premio ulteriore. E quindi di qui nasce, alcuni spiegano la nostra difficoltà di popoli continentali, come diceva Wikipedia, a ricevere nella nostra lingua e quindi nel nostro immaginario, nella nostra cultura, il termine di accountability. Da questo punto di vista è anche interessante vedere come nel corso del tempo una parola simile abbia avuto varie declinazioni, sia un termine molto sfaccettato che cambia a seconda del contesto in cui viene richiamato, quindi potrebbe essere utile proprio per disambiguare i tanti significati che la parola accountability può assumere, provare a vedere un po' com'è che sta funzionando il termine accountability reclinato in contesti diversi. La prima applicazione del termine accountability, dico la prima perché la questione di l'idea di rendicontazione, l'idea di mostrare i conti, portare i conti è abbastanza legato ai conti finanziari e quindi l'accountability bancario è certamente una delle, cioè se cercate su Google la parola accountability ci sono ottime probabilità che vi rimandi su questo concetto, è un concetto molto utilizzato dalle banche, in particolare a me è piaciuta molto la definizione che è la pagina dedicata all'accountability della BCE, della Banca Centrale Europea, che già ci aiuta a spiegare un po' di cose, c'è questo passaggio della slide che vi sto mostrando in questo momento che dice che la BCE spiega le proprie decisioni e motivazioni sottostante i cittadini dell'UE e i loro rappresentanti. La BCE ha l'obbligo di rendere conto del proprio operato principalmente del Parlamento Europeo, questo già ci aiuta a capire che nel momento in cui si parla accountability stiamo parlando di qualcosa che coinvolge due soggetti, dove un soggetto si impegna ad essere accountable, si impegna a rendicontare il proprio operato verso un altro soggetto, quindi è un sistema di relazione. Da questo punto di vista l'accountability bancaria non cambia rispetto ad altre declinazioni del termine accountability nel disegnare un rapporto tra due soggetti diversi, uno che deve rendicontare le proiezioni all'altro. C'è anche una, sempre più nel corso del tempo, c'è anche una forma di accountability aziendale, c'è quello che molte aziende pongono sui propri siti, cercano di rendicontare e di dare visibilità alle proprie azioni anche per guadagnare possibili nuovi clienti. Ad esempio, una delle prime che mi è venuta in mente facendo le slide, ma ce ne sarebbero molte altre, è il modo in cui l'IKEA o tantissime altre aziende pubbliche cercano di essere accountable rispetto al tema del green, dell'ambiente, della tutela dell'ambiente. Moltissime aziende, a prescindere dalla loro necessità, nel caso dell'ABCA, nel caso dell'accountability bancario, quella è una forma di accountability definita dall'istituzione, cioè definita dalle leggi, da un regolamento. In questo caso moltissime aziende di propria volontà decidono di essere accountable rispetto ad alcune proprie azioni, proprio perché ambiscono a guadagnare nell'immaginario comune una propria posizione. Il caso dell'IKEA sull'ambiente, ma potremmo farne di tantissime altre aziende, nel caso in particolare, ma in generale su qualunque altra tematica, cercano di essere quanto più accountable possibile, proprio per guadagnare una posizione diversa rispetto alle altre aziende. Considerate che il tema dell'accountability incrocia spesso il tema della simmetria informative, cioè della incapacità, della non possibilità di soggetti diversi di conoscere le stesse questioni nel momento in cui si parla di alcune questioni tecniche. Per esempio, un momento interessante di mancata a accountability o di forte simmetria informativa è successo poco tempo fa. Non so se avete avuto modo di sentirlo, se ne è parlato credo anche dei giornali. Moltissimi impianti di sicurezza nel corso del tempo, invece di utilizzare le classiche videocamere di sorveglianza, stanno iniziando a utilizzare la cosiddetta smart camera, cioè delle telecamere che hanno, basate su delle intelligenze artificiali, capaci di interpretare quello che sta succedendo nelle immagini che mostrano. È una forma molto avanzata di sorveglianza, è una forma che preoccupa per tutta una serie di ragioni che, come vi sarà facile immaginare, legate alla privacy, legate a che fine fanno quei dati e in moltissimi casi i bandi pubblici per accesso a questo genere di formentura tecnologica per un certo periodo sono stati vinti da aziende cinesi che proponevano queste telecamere a prezzi molto molto più bassi rispetto alla concorrenza. Andando a guardare un po' più da vicino il modo in cui funziona il software, ci si è resi conto che queste telecamere, una volta connesse internet, aprivano delle cosiddette backdoor, cioè delle porte non visibili, degli indirizzi IP non perfettamente tracciabili, dove comunicavano informazioni verso l'esterno, senza capire bene chi fosse questo esterno. Chiaramente il tema preoccupa moltissimo, soprattutto dal momento in cui alcune di queste telecamere sono state installate anche in uffici pubblici, quindi parliamo anche di dati sensibili dal punto di vista della sicurezza e dell'interesse nazionale e anche qui vedete c'è una forma di accountability completamente saltata, nel senso che nel caso di queste telecamere, nel caso di queste aziende, è assolutamente oscuro il modo in cui fanno funzionare il software che c'è alla base. È un problema, è un problema che si può declinare in questo modo, certamente oltre a essere un problema di natura tecnologica diventa anche un problema di accountability. Altra forma di accountability di cui si parla spesso è il cosiddetto accountability politico, cioè la capacità che i partiti politici, le associazioni politiche hanno di essere accountable rispetto al proprio elettorato. È un tema che riguarda certamente quella che una volta viene chiamata la cosiddetta questione morale, la capacità dei partiti di selezionare la propria cassa dirigente anche sulla base dell'accountability, quindi la capacità di rendicontare le proprie azioni di incoerenza rispetto agli obiettivi che ci si è dati. Il tema si può anche declinare da un punto di vista più operativo rispetto a come le decisioni prese dalla politica possano davvero essere accountable. Da questo punto di vista il Parlamento italiano, sia Camera che Senato da anni, porta avanti le iniziative molto interessanti di trasparenza sul modo in cui avvengono le decisioni in Parlamento, quindi su come viene maturata una decisione pubblica, su come i partiti di volta in volta si organizzino rispetto alle proprie votazioni. Tutti questi dati sono disponibili in formati anche piuttosto accessibili, sia sul sito della Camera che sul sito del Senato e alcuni soggetti guardano a queste informazioni per raccontare come sta funzionando la politica italiana. Per esempio questa è un'iniziativa che adesso credo non sia più alimentata, però è un'iniziativa molto interessante di Open Policy, un'associazione italiana che si occupa di trasparenza, di accountability pubblico e di una serie di iniziative sempre legate a queste tematiche. Questo sito era molto molto carino, si chiamava in Parlamento, raccontava tutto quello che era possibile desumere dei dati rilasciati dal Parlamento, dalla Camera e dal Senato. Era un modo molto interessante di guardare alla politica italiana perché era soprattutto basato sui numeri, quindi su qualcosa a cui è difficile avere interpretazioni, o quantomeno era il primo punto di partenza per le interpretazioni successive. Comunque questo ci aiuta a capire quanto la disponibilità dei dati sulla presa delle decisioni possa davvero essere un grandissimo motore di accountability, ne parliamo adesso e certamente torneremo a parlarne nel prossimo webinar di questo ciclo dedicato in maniera un po' più approfondita al tema dei dati. Altro tema, sempre a proposito di accountability, altra declinazione assolutamente interessante, non fosse altro perché è la prima che credo abbia fatto entrare il termine accountability nella normativa italiana, quindi per la prima volta abbiamo una definizione accountability molto puntuale rispetto a una tematica specifica che è quella della privacy, il Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali ha introdotto il tema dell'accountability nella normativa italiana. Che significa? Che rispetto a come avveniva in passato nella precedente normativa privacy che avevamo in Italia, ma in moltissimi altri paesi, europei, c'era un approccio come dicevamo prima più dogmatico, nel senso tu dovevi attenerti a tutta una serie di provvedimenti in funzione della privacy degli utenti che andavi ospitare sul tuo sito piuttosto che sulle tue iniziative e quindi attenendoti a quelle dovevi essere in grado di dimostrare qualora ci fossero stati dei problemi di esserti effettivamente attenuti a queste regole. Il GDPR supera questo concetto attraverso l'idea di accountability e sostanzialmente dice amministrazione, organizzazione, impresa privata che gestisci i dati personali degli utenti. Se lo fai, se gestisci questi dati in maniera coerente rispetto alle tue attività, chi meglio di te può sapere come dovrei gestire questi dati, può sapere come organizzarti al meglio affinché la privacy dei tuoi utenti sia davvero rispettata. Quello che ti dico io come normativa a livello europeo e quindi poi acquisita in singoli stati è che devi attenerti a una serie di principi che sono quelli che vedete più o meno rappresentati in questa slide e quindi sulla base di questi essere accountable nei confronti della privacy, del diritto di privacy dei tuoi utenti. Da questo punto di vista, davvero da un punto di vista culturale, è un superamento notevole rispetto alla posizione precedente del legislatore sul tema della privacy e certamente è un primo inizio. Considerate che qualcosa di molto simile dalle prime bozze che si leggono online, l'Unione Europea sta cercando di farlo anche in tema di intelligenza artificiale e di protezione dei dati più in generale. Anche lì in condizioni simili dove le tecnologie avanzano in maniera molto rapida, dove la sensibilità culturale rispetto a queste tematiche cambia in maniera radicale da generazione in generazione. Capite che provare a normare in maniera puntuale delle cose così complesse come la privacy ai tempi di Internet, dei social network e dell'intelligenza artificiale e via discorrendo è davvero molto più complicato. È più coerente dal punto di vista del legislatore immaginare un quadro in cui una serie di principi devono essere applicati attraverso l'accountability del modo in cui vengono gestiti i dati o del modo in cui vengono gestiti gli algoritmi dell'intelligenza artificiale. Certamente è interessante vedere come per la prima volta con il GDPR si è fatto a breccia nel modo in cui viene declinato il concetto dell'accountability nella normativa. Dopo questo primo escursus su come può essere declinato il tema accountability nelle prime sfaccettature, nelle più grosse, nelle più significative che ci è venuto in mente, proviamo a vedere un po' più da vicino come invece l'accountability di segna una serie di azioni rispetto alle politiche pubbliche. Scusate, stavo leggendo alcune domande, ne approfitto prima di passare a questa seconda parte. Sarà possibile, c'era Penny che diceva, sarà possibile ricevere le slide registrazioni del web? Bene, allora guardate le slide, le trovate già sulla pagina di Ventipia da cui vi siete iscritti a questo corso, sia le mie che quelle di Silvia Martini, quindi già sono disponibili per tutti. Da questo pomeriggio ci troverete anche la registrazione integrale del webinar. Mentre per la domanda di Giuseppe parlava di accountability politico, la riflessione di Giuseppe era più o meno non troppo confortante rispetto al tema dell'accountability politico. Come vi dicevo però, al di là dell'accountability dei singoli partiti politici, quello che ci interessa rispetto al modo in cui proviamo a ragionare insieme sul tema di accountability e vedere come ci si possa organizzare, esattamente così come dicevo prima, così come ha fatto la Camera e il Senato come istituzioni, a rendere accountable un processo decisionale. È una cosa che ci interessa parecchio e da cui possiamo imparare parecchio anche come pubbliche amministrazioni. Detto questo, proviamo a guardare come si può declinare il termine accountability nel design, nello sviluppo, nell'implementazione, nella rendicontazione delle politiche pubbliche. Guardate, è difficile anche qui, cercando la definizione, io la migliore che ho trovato, quella che mi sembra più coerente di tutti, è quella che ci dà il Dipartimento delle Politiche Europee. Non è un caso, probabilmente ne parleremo più avanti, di come effettivamente l'accountability possa diventare l'elemento centrale delle politiche pubbliche. Anche qui, vedete, in italiano è rendicontabilità, obbligo, capacità di rendicontazione, però non esiste una parola sola per tenere dentro tutto il concetto, è necessario ragionarci intorno. Si parla appunto di rapporto, nel caso specifico, rapporto tra le istituzioni ai cittadini e di necessità di attuare l'accountability attraverso una serie di misure. In questo caso il Dipartimento delle Politiche Europee chiama in causa, per arrivare a stabilizzare il termine accountability, chiama in causa altri tre concetti che in qualche modo riassumono, richiudono, ci aiutano a fare luce su che cosa davvero significa questa parola. Certamente la trasparenza, intesa come garanzia di completo accesso all'informazione pubblica, da questo punto di vista la normativa italiana è assolutamente solida, la responsabilità, cioè come la capacità di rendere conto delle proprie scelte e in alcuni casi, avremo modo di vederlo, alcuni strumenti normativi sono andati esattamente in questa direzione e la conformità, intesa come la capacità di far rispettare le norme e anche qui a breve parleremo di ANAC, che ancora una volta ci aiuta a capire meglio come funziona l'accountability sulle politiche pubbliche. Questa definizione già ci aiuta a tirare un po' di somme rispetto all'accountability delle politiche pubbliche, possiamo iniziare a dire che certamente l'accountability può essere considerato una sorta di risposta al processo di delega, nel senso i cittadini attraverso il proprio vivere civico da questo punto di vista, cioè andando a votare, pagando le tasse, prendendo parte ai momenti di democrazia che ci vengono fortunatamente offerti in varie occasioni, in qualche maniera i cittadini danno delega alle istituzioni affinché realizzino alcune azioni. Questa responsabilità, questo potere delle istituzioni pubbliche viene in qualche maniera ricambiato attraverso la trasparenza, l'accountability, l'accesso alle informazioni e tutte le cose che dicevamo prima, proprio per bilanciare questo equilibrio, in qualche maniera anche per dare credibilità, rafforzare la credibilità delle istituzioni stesse che appunto lavorano a nome di tutti, quindi rendi contano a tutti in maniera puntuale le proprie scelte e il proprio modo di declinare il proprio ruolo. Certamente l'accountability, la trasparenza nel corso del tempo e da questo punto di vista sembra davvero una tendenza normativa, cioè sempre di più il legislatore fa entrare nella normativa italiana alcune necessità, alcuni momenti di accountability e di trasparenza anche in maniera diretta per le pubbliche amministrazioni. Altra cosa che ci aiuta a capire la definizione che abbiamo letto prima è che l'accountability non riguarda soltanto le istituzioni pubbliche, non riguarda soltanto le organizzazioni ma anche i singoli dipendenti, sono moltissime le iniziative, la regolamentazione normativa che si rivolge anche al singolo dipendente e non solo all'istituzione, adesso ne vediamo qualcuno. Proprio per provare a rientarci, proprio per provare a capire un po' meglio dov'è che possiamo andare al momento in cui parliamo di accountability pubblico, proviamo a orientarci, proviamo a capire quali sono i riferimenti nazionali che sono più impegnati sia sul tema della trasparenza ma anche sul tema dell'accountability delle pubbliche amministrazioni. Dovendo fare un ragionamento rispetto a quali sono le istituzioni italiane che presidiano in più di altre questo tema, certamente il primo punto di riferimento è l'autorità nazionale anticorruzione, l'ANAC, se ne è parlato spesso anche nel dibattito politico recente. L'ANAC di fatto uno dei modi per declinare la mission dell'ANAC è proprio quello, cioè quello di rendere più accountable l'azione pubblica, l'azione delle pubbliche amministrazioni. L'ANAC lo fa con un obiettivo generale che è chiaramente quello della proiezione della corruzione rispetto all'azione amministrativa, però ha anche funzioni di vigilanza molto specifiche su alcuni ambiti. L'anticorruzione, chiaramente gli obiettivi di trasparenza, parliamo del decreto d'entratare, soprattutto in amministrazione trasparente e via discorrendo. Il conferimento degli incarichi pubblici è sempre un ambito regolamentato nella parte dell'ANAC e la risoluzione dei conflitti di interesse con i singoli funzionari, come dicevo prima, non è soltanto una questione di organizzazioni ma anche di singoli dipendenti e l'enorme questione dei contratti pubblici. Una delle ragioni per cui recentemente si è molto parlato di ANAC è per la revisione del codice degli appalti, per la lieve frizione tra ANAC e Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti impegnato sulla revisione del codice. Alcuni dipendenti normativi presidiati da ANAC rispetto a queste tematiche sono certamente i piani triennali di prevenzione della corruzione, chi di voi lavora in pubblica amministrazione in qualche maniera immaginare sia stato coinvolto, il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, che ancora una volta chi di voi lavora in pubblica amministrazione certamente ha avuto modo di legge, di presidiare, di ragionare. Gli obblighi di pubblicazione del decreto 33, così come è stato rivisto nel corso del tempo e quindi tutta la possibilità anche di arrivare a quei dati attraverso un harvesting sui dati esposti, anche qui ne parleremo meglio nel prossimo appuntamento, è come dicevo il codice degli appalti che in questo momento è oggetto di ragionamento. Altro soggetto di cui si può parlare direttamente nel momento in cui parliamo di accountability delle pubbliche amministrazioni evidentemente anche per una questione di ambito presidiato è il Dipartimento della Funzione pubblica, quindi anche qui una serie di iniziative portate avanti dal DFP, dal Dipartimento della Funzione pubblica negli ultimi anni per rafforzare l'accountability pubblico, i cicli della performance e peraltro da questo punto di vista certamente Silvio Martini ve lo racconto un po' meglio di come sto facendo io adesso, almeno andando a guardare un po' più da vicino il tema in Regione Emilia Romagna. I piani integrati per le attività delle organizzazioni, i cosiddetti PIAO, se ne è parlato, è una delle novità più recenti, è un punto di convergenza tra una serie di iniziative già collocate in altre attività di programmazione che adesso ha trovato una specie di disunto, di crasi nel PIAO e è uno strumento molto potente da questo punto di vista proprio perché sistematizza. E' altra iniziativa molto vicina che ci sta particolarmente a cuore perché riguarda in maniera diretta i temi del governo aperto e l'accesso civico generalizzato FOIA. Magino che anche qui se lavorate in una pubblica amministrazione ma anche se in qualche maniera siete coinvolti per altre attività con le pubbliche amministrazioni ne abbiate sentito parlare. Il FOIA è una normativa del 2016, la prima che è arrivata nell'armativa italiana nel 2015 e rilanciata nel 2016 che permette, garantisce a chiunque l'accesso all'informazione dei dati delle pubbliche amministrazioni, chiaramente qualunque dato, qualunque informazione affinché non ci sia il pericolo di compromettere interessi pubblici o privati, quindi qualunque cittadino, qualunque associazione di categoria, qualunque soggetto può chiedere a una pubblica amministrazione alcune informazioni non ancora pubblicate e l'amministrazione è tenuta a dargliele a meno che non vadano a ledere degli altri interessi, possono essere quelli della privacy, del segreto istituzionale, del segreto amministrativo e via discorrendo. È interessante vedere come il legislatore ha deciso di disciplinare l'accesso civico generalizzato, considerate che l'accesso civico esisteva già da sempre, da quando c'era stato di diritto nella normativa italiana, l'accesso civico generalizzato, il FOIA amplia questo diritto e l'idea appunto della normativa che ha portato il FOIA è quella di garantire questo diritto fondamentale, quello che gli americani chiamano il right to know, cioè il diritto di essere messi a conoscenza di quello che avviene nelle stanze del potere, insomma nelle istituzioni pubbliche, l'idea è di tutelare l'interesse conoscitivo quindi di tutti i soggetti e soprattutto di farlo e anche qui citiamo direttamente la legge, di incoraggiare un dibattito pubblico informato sui temi di interesse collettivo. Da questo punto di vista è una grandissima leva di accontabili, una grandissima opportunità per migliorare l'interesse pubblico, peraltro il FOIA da questo punto di vista è disegnato in maniera molto funzionale a questo scopo, anche perché appunto prevede che singoli cittadini, associazioni di categoria, giornalisti possono porre formalmente delle domande per arrivare a conoscenza di alcuni documenti da parte delle pubbliche amministrazioni e una volta che la pubblica amministrazione ha risposto la richiesta di accesso FOIA, le informazioni rilasciate possono diventare di domenio pubblico, quindi a questo punto di vista certamente veramente il giornalismo d'inchiesta ne può beneficiare in maniera molto diretta perché è possibile appunto fare delle richieste della pubblica amministrazione, arrivare a conoscere delle informazioni e poi divulgarle a propria volta. Considerate che fino a qualche tempo fa il divertimento della funzione pubblica aveva un portale dedicato che è appunto l'osservatorio FOIA e quelle che vedete in questa infografica che ho preso dal page del sito e come il FOIA una volta approvato nella normativa italiana è inciso sulla produzione normativa, sentenze della Corte di Giustizia, il Consiglio di Stato, le sentenze del TAR, i pareti del garante della privacy sul FOIA, come vi dicevo la privacy potrebbe essere un tema che porta le pubbliche amministrazioni a negare il diritto d'accesso e quindi da questo punto di vista il garante si è molto impegnato a facilitare l'implementazione del FOIA. Sempre sul sito dell'osservatorio FOIA, dati aggiornati fino all'anno scorso, qui potete vedere come le richieste di accesso FOIA siano andate nel corso degli anni e vedete la stragrande maggioranza vengono interamente accettate, in alcuni casi accettate con riserva o c'è anche una percentuale di rigetto proprio perché chi pone la domanda magari non si rende conto nel momento in cui sta chiedendo qualcosa alle pubbliche amministrazioni, quella informazione potrebbe ledere i diritti di altri. È interessante vedere sempre guardando i dati dell'osservatorio FOIA come si distribuiscono tra i vari ministeri, chiaramente il ministro dell'interno che ha sul tavolo le questioni un po' più scottanti, un po' più calde da questo punto di vista riceve evidentemente molte più richieste di accesso FOIA rispetto ad altri ministeri, così come la presidenza del Consiglio dei ministri, per esempio durante il Covid, durante tutte le azioni di contrasto alla diffusione del virus ci sono state moltissime richieste di accesso FOIA proprio per cercare di capire cosa è che sta succedendo, le cose avvenivano in emergenza, quindi molti decreti, molte decisioni per forza di cose prese molto a ridosso e quindi questo ha fatto molto salire il numero di richieste FOIA. Come vi dicevo su questo sito che il Centro Nazionale di Competenza, sito del Dipartimento della Funzione Pubblica, ci trovate molte informazioni di questo tipo ed è un ottimo punto di partenza, punto di ragionamento rispetto al tema del FOIA, in particolare più in generale rispetto al tema di un certo tipo di accountability delle pubbliche amministrazioni. Sempre a proposito di Ministro per la pubblica amministrazione del Dipartimento della Funzione Pubblica, tra le iniziative che ci portano al tema dell'accountability, certamente c'è la partecipazione italiana Open Government Partnership che da questo punto di vista ci aiuta anche a inquadrare il tema dell'accountability rispetto al tema del governo aperto. Open Government Partnership è un accordo multilaterale internazionale che ha visto negli ultimi dieci anni abbondanti alcuni Paesi impegnarsi nel portare nella propria normativa, nelle proprie azioni pubbliche alcune azioni di governo aperto, considerate che l'Italia è coinvolta in Open Government Partnership sia dal principio, insomma sono quasi dieci anni che Open Government Partnership è stata fondata nel 2011, inizialmente c'erano una decina di Paesi, adesso abbiamo abbondantemente superato i 70, in più si aggiungono altre molte realtà locali e Open Government Partnership funziona, i singoli Paesi portano all'interno dei propri piani nazionali rivisti ogni due anni, tutta una serie di azioni riconducibili al governo aperto, coprogettate da pubblica amministrazione e società civile, in questo momento in Italia è attivo il quinto piano nazionale per il governo aperto che come vedete al suo interno ha molte azioni riconducibili al accountability pubblico, il rafforzamento della partecipazione della società civile, la prevenzione della corruzione, la cultura dell'integrità, l'innovazione digitale, c'è un principio, anche qui torneremo a parlarne, che dice quanto più le pubbliche amministrazioni vanno verso il digitale per forza di cose sono molto più accountable, proprio perché digitale tendenzialmente significa tracciamento e quindi è più facile ricostruire il modo in cui si generano le informazioni pubbliche, insomma in tutti i piani di governo aperto, in particolare nell'attuale quinto piano di Open Gov, certamente la accountability svolge un ruolo centrale nel disegno delle azioni, anche qui vi rimando al sito Open Gov per maggiori approfondimenti e chiaramente lo stesso piano d'azione, il quinto piano d'azione, l'azione d'azione per il governo aperto è a sua volta accountable, nel senso che ha una pagina dedicata, è quella che trovate il link qui in basso, in cui appunto si racconta il modo in cui si sta portando avanti il piano, rispetto agli obiettivi iniziali, come è andata, se sono stati raggiunti, per quali ragioni non sono stati raggiunti, o insomma c'è un racconto aperto rispetto a come sta andando, chiaramente un racconto scritto a quattro mani dai soggetti che lo stanno portando avanti, pubblica amministrazione e società civile, ad ogni aggiornamento quadrimestrale se non ricordo male, delle azioni e degli impegni del quinto piano nazionale d'azione corrispondono dei report di monitoraggio, quindi da questo punto di vista anche l'Italia nell'implementazione di questo piano non solo è accountable nei confronti di tutti i suoi cittadini, ma è un processo di accountability anche nei confronti di Open Government Partnership dell'Associazione Internazionale, proprio perché da questo punto di vista è un po' come l'Unione Europea, cioè nel senso noi siamo, l'Italia è accountable rispetto ad esempio a come spende i propri soldi nei confronti dei suoi cittadini, ma anche proprio perché fa parte di un'Unione più più ampia anche nei confronti dell'Unione Europea, è lo stesso genere di rapporto. Il governo aperto che in linea teorica si basa su alcuni pilastri che poi diventano operativi nel momento in cui si segnano politiche che afferiscono un ambito piuttosto che all'altro, chiaramente il tema della trasparenza, della partecipazione e della collaborazione, quantomeno a cui si possono affiancare anche altre tematiche, altri riconducibili al tema del governo aperto, in questo schema di sintesi non vedete l'accountability perché effettivamente l'accountability è parte di qualunque, sia accountable nel momento in cui si fa trasparenza, nel momento in cui si fa partecipazione e certamente nel momento in cui si fa collaborazione, cioè l'accountability è talmente parte del modo in cui funzionano le politiche di governo aperto che non è necessario conclamarlo come un pilastro dell'azione pubblica dell'Open Gov, da questo punto di vista è un po' come i pesci che non sanno cosa è l'acqua, sono talmente immersi nell'acqua che non sanno neanche cosa sia e da questo punto di vista certamente l'accountability fa parte di qualunque politica di governo aperto. Guardando invece un po' più da vicino al tema dei processi decisionali aperti e di come la partecipazione pubblica possa certamente essere momento di accountability delle pubbliche amministrazioni, proviamo a guardare come funziona la partecipazione pubblica, come funziona l'impegno delle pubbliche amministrazioni che vogliono coinvolgere cittadini, associazioni di categoria, imprese nella progettazione, nel monitoraggio, nella rendicontazione delle proprie politiche pubbliche. Torniamo, ci aiutiamo un attimo con la letteratura che è abbondante in questo senso, molte analisi su come funziona la partecipazione pubblica scompongono i livelli, l'intensità della partecipazione in una scala che di solito è rappresentata con questi quattro step, certamente una buona informazione pubblica è un primo passo indispensabile per una buona partecipazione, a questo primo step può corrispondere un secondo che è quello della consultazione pubblica in cui le pubbliche amministrazioni chiedono il parere di tutti i soggetti esterni e poi decidono a valle dell'ascolto del parere di tutti, si prendono la responsabilità di portare avanti le proprie azioni, si passa un po' più avanti con la collaborazione quindi dove si lavora a quattro mani e con l'empowerment dove il processo di delega è ancora più alto. È indispensabile guardare in quest'ottica, come dicevamo prima, la delega è parte stessa delle modalità con cui la pubblica amministrazione porta avanti le proprie azioni di accountability e ci concentriamo, anche perché ci riguarda rispetto alla maggior parte, alla stragrande maggioranza dei processi partecipativi avviati in Italia e all'estero, sul tema della consultazione pubblica, il secondo livello di questa scala, cioè il momento in cui le pubbliche amministrazioni raccolgono, un po' come ha fatto la regione Emilia Romagna rispetto al disegno del piano triennale della formazione, raccolgono il punto di vista di tutti i soggetti esterni, elaborano questi punti di vista, fanno il punto finale e quindi portano avanti l'elaborazione di politiche pubbliche quanto più aderenti rispetto alle esigenze manifestate dai cittadini. È interessante vedere come la consultazione pubblica evolva anche il concetto di informazione pubblica, che in un primo senso può essere visto come informazione una via in cui l'amministrazione racconta a chi sta all'esterno come stanno andando le cose, nel caso delle consultazioni pubbliche non ci si limita un racconto ma subentra anche la seconda parte del dispensabile affinché un dialogo funzioni, cioè quello dell'ascolto. Quindi la consultazione pubblica è uno strumento, è una metodologia che ci consente di ascoltare come stanno andando le politiche pubbliche. Da questo punto di vista, guardate in maniera molto schematica, se non ci sono iniziative di partecipazione, sostanzialmente le pubbliche amministrazioni si limitano, come vedete nello schema più in alto nella slide, a comunicare le proprie decisioni senza che ci sia un momento di ascolto, senza che ci sia un momento di verifica. Nel caso delle politiche pubbliche davvero accountable e davvero volte all'ascolto al momento di partecipazione pubblica, di solito funziona che le pubbliche amministrazioni condividono un'idea, condividono una possibilità, una bozza di come quella politica pubblica può essere portata avanti. I cittadini mossi dal proprio senso civico, dal proprio interesse a partecipare, discutono di quella bozza. La pubblica amministrazione fa una sintesi rispetto a come è andata quella discussione e quindi torna sul progetto di politica pubblica che incorpora anche i punti di vista dei soggetti esterni. Come vedete chiaramente i passaggi sono di più, quindi è molto oneroso per una pubblica amministrazione portare avanti iniziative di questo tipo, però chiaramente i benefici sono tanti. Vi faccio un esempio. Su Partecipa, che è il portale nazionale per le consultazioni pubbliche gestito dal Dipartimento della Funzione Pubblica e anche da noi del Formez, si svolgono tutta una serie di consultazioni pubbliche, prendo questa che è una delle più recenti dell'Agenzia per l'Italia digitale che a fronte di una sollecitazione che arriva dall'Europa c'è la modifica della normativa sulla PSA e sul riuso dell'informazione pubblica, si è trovata nella necessità di aggiornare un documento che sono le linee guida per l'apertura dei dati e il ritorizzo dell'informazione pubblica. Quindi in piena coerenza con il principio di accountability, di Open Gov e di trasparenza, l'Agid ha pubblicato su Partecipa una versione in bozza di questo documento. Tutti i soggetti interessati che in questo caso avevano anche le competenze, perché comunque è un documento piuttosto tecnico, hanno manifestato le proprie stanze, quindi attraverso l'applicazione hanno argomentato come queste linee guida potessero funzionare, potessero essere migliorate e quindi l'Agid ha fatto una sintesi di come effettivamente le cose sono andate. Guardate, farlo in maniera così sistematizzata ti permette anche di restituire in maniera di fare una rendicontazione pubblica rispetto a queste iniziative, quindi raccontare effettivamente come sono andate. Vedete molti dei commenti ad esempio avevano un carattere generale, quindi alcuni di questi sono di l'Agid si è limitata a chiarire la propria posizione rispetto a questo documento, altri avevano un carattere editoriale, altri ancora avevano un carattere tecnico. Vedete come questi tipi di stanze presentate attraverso il processo di consultazione pubblica, poi si sono tradotte in recepimenti, in chiarimenti o in commenti cassati, perché vedete in larga parte quelli non recepiti arrivano dai commenti generali, quindi un po' troppo vaghi per essere inclusi in un documento tecnico di questo tipo. È interessante anche che oltre a un tipo di rendicontazione più basata sui numeri, è possibile chiaramente fare una rendicontazione un po' più argomentata e anche qui quello che fa l'Agid, fanno moltissime delle pubbliche amministrazioni che portano avanti le proprie iniziative di partecipazione pubblica su Partecipa o su altri siti, fanno un po' un punto rispetto a come è andato il processo di consultazione pubblica, quindi vedete da questo punto di vista c'è un reale tracciamento di come è stata maturata la decisione all'interno della pubblica amministrazione, cioè attraverso i processi di consultazione pubblica è effettivamente possibile vedere come le pubbliche amministrazioni maturano le proprie posizioni, eventualmente includendo anche il punto di vista di tutti quei soggetti su cui quelle politiche pubbliche andranno a ricadere, quindi sarebbe davvero molto opportuno ascoltarle e come modificano i propri punti di vista, le proprie direzioni rispetto alle necessità individuate in sistemi di questo tipo. La consultazione pubblica o quantomeno qualunque iniziativa di partecipazione è garanzia di tracciabeta del processo decisionale pubblico. Non è un caso effettivamente che moltissime pubbliche amministrazioni italiane abbiano e continuino a ritenere la partecipazione pubblica come un momento di accontabilità, un momento per rafforzare le proprie politiche pubbliche. Moltissimissimi comuni italiani portano avanti da anni interessantissime iniziative di bilanci partecipanti dei comuni, lo fanno comuni molto grandi, Milano, l'ho fatto Roma, lo fanno comuni molto piccoli, mi viene in mente però perché parliamo di regione Emilia-Romagna, il comune di Vignola che credo sia piuttosto piccolino anche da un punto di vista di abitanti, da anni porta avanti un'iniziativa molto interessante di bilancio partecipato e vedete è certamente molto interessante vedere come anche realtà più piccole si trovino interessanti a portare avanti iniziative di questo tipo. Ci sono molte regioni che al pari della regione Emilia-Romagna hanno deciso di normare questa parte di partecipazione pubblica e quindi si sono organizzate la Puglia, le Marche, l'Emilia-Romagna, l'Umbria, la Toscana e credo anche altre da quello che mi pare di intuire si stiano affacciando in questo tipo, hanno normato con una legge regionale la partecipazione pubblica proprio perché la ritengono un elemento essenziale delle realtà civiche e del modo in cui funziona, può funzionare meglio una regione che decide di affacciarsi in maniera consapevole a questi temi. Dal punto di vista nazionale non esistono fortissime normative che riguardano la partecipazione, considerate che il tema della partecipazione è incluso nella precedente versione del codice degli appalti dove avevamo mutuato il dibattito pubblico in stile francese e in quel caso il codice degli appalti prevedeva un momento di partecipazione pubblica su alcune opere fidanziate sopra una certa soglia. Mi pare di capire che sia uno dei commi, uno dei passaggi negli articoli che in questo momento è dibattuto sulla revisione del codice, vediamo cosa succede. Ugualmente si parla di partecipazione pubblica, esattamente così abbiamo parlato adesso, nell'articolo 9 del codice delle amministrazioni digitali, il codice dice appunto che le pubbliche amministrazioni possono utilizzare piattaforme telematiche per portare avanti iniziative di partecipazione pubblica. Interessante invece il modo in cui l'Unione Europea da anni è molto impegnata a portare il tema della consultazione pubblica, del coinvolgimento, il civic engagement delle politiche di ascolto, proprio per rafforzare l'accountability delle politiche pubbliche e da questo punto di vista anche per avviarci verso la conclusione e sperare di dare un minimo di aggancio a Silvia nel suo intervento successivo recentemente, ed è una cosa che avviene da sempre nelle politiche pubbliche, chiunque di voi è stato impegnato direttamente o come pubblica amministrazione o come soggetto esterno nella presentazione della risposta a bandi, nella presentazione di progetti europei, da sempre l'Unione Europea punta moltissimo sul concetto di parternariato, sul concetto di ascolto, sul concetto di coinvolgimento delle realtà territoriali nel disegno delle politiche pubbliche che possono beneficiare del finanziamento europeo. Non ultimo, l'ultima revisione dell'accordo di parternariato, che è un po' il documento quadro rispetto a come verranno spesi i fondi SIE dai singoli paesi e nel caso specifico dell'Italia, ha dato grande centralità al tema, soprattutto nella parte in cui si parla di governance, ha dato grande centralità al tema dell'open government, in particolare nell'accordo di parternariato 21-27, quindi quello che disciplina i fondi che andremo a disegnare, a spendere e a realizzare di qui al 2027, ha previsto, vede in open coesione, piattaforma di cui avremo modo di parlare nel webinar successivo, il punto di raccolta e di esposizione di tutti i dati sulla programmazione europea e nella stessa parte rilancia non solo il tema del parternariato in logica di fondi istrutturali, ma dice che sarebbe opportuno che oltre ad ascoltare il parternariato già individuato, le pubbliche amministrazioni che beneficiano di fondi SIE allarghino il proprio punto di vista attraverso l'ascolto di soggetti anche esterni alle singole realtà parternariali. Da questo punto di vista, quindi il tema dell'accountability in logica di tracciabilità del processo decisionale e di partecipazione pubblica è certamente centrale. Io credo di avervi raccontato più o meno tutto, chiaramente per qualunque domanda non esitate a scriverci via chat nel contenitore domande e chiederei a Silvia Martini della Regione Miglia-Romagna di aprire la sua webcam come ha appena fatto. Silvia, chiudo la mia presentazione così sia in modo di condividere la tua. Benissimo, grazie. Grazie a te, ti lascio la parola. Ok, grazie Gianfranco, appena tu togli la tua condivisione io vado con la mia, eccole qua, condividi, perfetto, vado anche in vista a schermo intero, ditemi quando si vede. Ti vediamo perfettamente a schermo intero. Benissimo, perfetto, allora buongiorno a tutti e grazie davvero a Gianfranco per questa interessante introduzione sia sul concetto di accountability che per la carrellata molto molto completa sulle istituzioni che si occupano di accountability e sugli strumenti che sono in uso presso le pubbliche amministrazioni. Io oggi sono stata invitata a fare una breve presentazione di un'esperienza della regione Emilia Romagna che è legata alla valutazione della politica di coesione e in particolare nel ciclo di programmazione 14-20 ed è credo molto molto pertinente, molto calzante rispetto al tema della tracciabilità del processo decisionale perché in effetti la valutazione è uno strumento che serve non solo a dare conto ai cittadini, agli stakeholder di quello che è stato realizzato con le politiche pubbliche, nello specifico con la politica di coesione, ma viene anche utilizzata per alimentare il processo decisionale con le evidenze appunto che emergono dalla valutazione, quindi la valutazione significa chiedersi qual è stato l'impatto dell'azione pubblica e comprendere dall'analisi empirica come migliorare l'azione pubblica per il futuro. Io sono Silvia Martini, sono PO in regione Emilia Romagna, mi occupo di valutazione, monitoraggio, programmazione unitaria, sono coordinatrice del nucleo di valutazione e verificazione degli investimenti pubblici. Ho pensato di articolare così il mio intervento, cosa significa valutare, perché valutare, la valutazione e la politica di coesione, perché la regione ha deciso di dotarsi di un piano regionale unitario delle valutazioni nel 14-20, come è lavorato e attuato e come stiamo lavorando per avviare il processo di valutazione del ciclo 21-27. Ho pensato di partire da alcune, diciamo, dalla condivisione di alcuni concetti fondamentali su cosa significa valutare, come valutare, perché ho visto, insomma, ho visto un po', ho dato un'occhiata agli iscritti alla giornata di oggi e ho visto che in realtà sono rappresentati tanti enti diversi, tanti profili professionali anche delle persone, non tutti magari sono addetti ai lavori della politica di coesione, anzi mi è parso di vedere molto pochi, quindi mi pareva importante partire da qui. Allora, cosa significa valutare? La valutazione è una produzione sistematica di informazioni per dare giudizi, dare giudizi, questo è un aspetto molto importante, su azioni pubbliche, con l'intento di migliorarle. Quindi ci sono tre elementi costitutivi, la produzione sistematica di informazioni, che significa che è sempre, c'è sempre una, alla base, un'analisi empirica, l'espressione di un giudizio, quindi la necessità di un termine di confronto, ma il giudizio è importante perché la valutazione va oltre l'accantability, è una forma molto alta di accantability, ma va oltre, nel senso che non si limita a restituire, dare informazioni su come sono state utilizzate le risorse pubbliche per fare che cosa, ma anche quali sono stati gli impatti, cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato e come l'amministrazione sta impegnando a utilizzare questa conoscenza per un miglioramento poi successivo e quindi il terzo elemento, l'intento migliorativo, orientare la decisione pubblica. Perché valutare? Si valuta con diversi obiettivi, si valuta per scegliere tra misure di politica alternative e quindi una valutazione a supporto del decision making, si valuta per gestire organizzazioni per misurarne la performance, Gianfranco l'ha accennato nella sua introduzione, io non mi soffermerò sulla performance, però sappiamo che anche nel ciclo della performance dopo la misurazione delle performance viene la valutazione per verificare se si sono raggiunti target e laddove non si siano raggiunti quali azioni migliorative intraprendere per aggiustare il tiro, diciamo così. Si valuta per rendere conto delle realizzazioni ai cittadini, agli stakeholder, si valuta e questo è particolarmente importante nella valutazione delle politiche pubbliche e nella valutazione della politica di coesione per apprendere, apprendere sul come hanno impattato sui cittadini le soluzioni di policy adottate e su che effetti abbiano prodotto. Si può valutare anche per motivare una collettività verso uno scopo comune, quindi per creare commitment. La valutazione della politica di coesione è una valutazione di learning, è una valutazione che serve a verificare la capacità di un intervento di policy finanziato con i fondi europei, nello specifico, di risolvere un problema collettivo. È sempre finalizzata a elaborare un giudizio e a produrre una conoscenza che può essere focalizzata sul processo di implementazione o sugli effetti o su entrambi ed è fondamentale nel processo di valutazione che la conoscenza venga utilizzata per il miglioramento delle politiche. Veniamo alla politica di coesione, la politica di coesione, la valutazione della politica di coesione, quali sono gli attori e le fasi, c'è una fase di definizione, una fase di realizzazione, una fase di utilizzo, parimenti importanti, quindi attenzione come dire all'approccio alla valutazione come adempimento, quindi incarico un valutatore esterno di elaborare un corposo rapporto di valutazione che poi resta confinato entro i confini dell'amministrazione committente, non è questo. La valutazione della politica di coesione rispecchia la governance della politica di coesione, che è una governance multilivello, quindi vedete che tra gli attori, oltre alla regione Emilia Romagna, perché in questo caso stiamo parlando della regione Emilia Romagna e della valutazione dei nostri programmi regionali, ma potrebbe essere un'amministrazione centrale per i programmi nazionali o un'altra regione, o la stessa Commissione Europea per il programma di gestione diretta, ma non è soltanto la regione coinvolta, vediamo che vengono citati gli stakeholder e i beneficiari, gli stakeholder perché sono rappresentati nei comitati di sorveglianza, che sono luoghi proprio di indirizzo e controllo e accompagnamento dell'attuazione dei programmi, dove è rappresentato il partenariato, e poi i beneficiari, la cui voce va sempre ascoltata. Vedete che viene citata anche la Commissione Europea, perché la funzione di valutativa è disciplinata dai regolamenti europei e la Commissione Europea è presente ai comitati di sorveglianza, nell'ambito dei quali vengono presentati l'avanzamento delle attività valutative e anche gli esiti. Ecco, è fondamentale l'utilizzo, l'utilizzo per migliorare la politica. Qui è rappresentato il processo, è un processo articolato, si parte dal decidere di valutare, dal definire la domanda di valutazione, cioè il quesito di ricerca iniziale, definire come, quindi l'approccio metodologico, poi rendere operativa la domanda, stilare un capitolato, di solito la valutazione, la politica di questione deve essere terza e quindi l'affidata a valutatori esterni, in parte però viene fatta anche per esempio dal nucleo di valutazione, in regione miglior mania e in altre regioni, e selezionare il valutatore e realizzare la valutazione, tutta la parte centrale del processo, mi soffermo particolarmente sugli ultimi passaggi che sono quelli appunto di una volta che è completata la valutazione, c'è un deliverable che è il rapporto di valutazione, questo deliverable deve, non deve rimanere nei cassetti, ma deve essere alimentare una discussione aperta, il più possibile partecipata, che è funzionale poi al più ampio utilizzo delle evidenze valutative emerse. Quindi un processo aperto, abbiamo detto che le attività di valutazione nella politica di questione sono obbligatorie e vengono presentate nei comitati di sorveglianza in cui è rappresentato il partenariato, le valutazioni sono tutte pubblicate, tra breve vi farò vedere i link dove potete trovare tutte le valutazioni della regione Emilia-Romagna, l'utilizzo delle evidenze valutative è fondamentale per il miglioramento della programmazione a fine di un ciclo ed avvio del successivo, quindi come nella fase che si è appena conclusa di, o che si sta concludendo in alcune regioni, di conclusione della programmazione 14-20 e avvio della programmazione 21-27. Perché la regione Emilia-Romagna si è dotata di un piano unitario nel ciclo di programmazione 14-20? Era innanzitutto perché era previsto dal regolamento europeo che disciplina la politica di coesione e la funzione valutativa, mentre è diciamo un'opzione nel 21-27, che la regione comunque intende dare continuità al suo impegno unitario. Un aspetto importante del piano di valutazione è che si programma la valutazione in anticipo, condividendola anche con il partenariato, quindi nell'ambito del comitato di sorveglianza si definiscono le domande di valutazione e si programmano le valutazioni da realizzare. Poi c'è una pianificazione proprio attuativa, operativa, la selezione del valutatore esterno, ad esempio la programmazione delle risorse finanziarie necessarie, perché comunque la valutazione ha un costo e l'aspetto a mio avviso più importante è disegnare una governance della valutazione che sia garante di una qualità del processo e di una apertura del processo. Veniamo finalmente alla esperienza della regione Emilia-Romagna nel ciclo di programmazione 2014-2020 e partiamo dalla governance che era proprio l'ultimo elemento che ho citato nella slide precedente. La regione Emilia-Romagna per la programmazione 2014-2020 si è data una governance che faceva capo alla giunta in particolare ad un assessore con delega al coordinamento delle politiche europee allo sviluppo che era nella precedente programmazione l'assessore Patrizio Bianchi, poi ministro, e che è in questa programmazione l'assessore Calvano, e poi è sedata una struttura di coordinamento dei fondi europei che taglia, diciamo, trasversalmente l'amministrazione, proprio per superare un po' i silos settoriali, con una conferenza dei direttori partecipata dalla Direzione Generale Agricoltura che ha la responsabilità del programma di sviluppo rurale, la Direzione Generale Economia da Conoscenza del Lavoro dell'Impresa che presidia i programmi FESR, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e FSE, Fondo Sociale Europeo. La DG REI a cui io appartengo, che è al presidio del Fondo Sviluppo e Coesione, che è il Fondo Nazionale che ha finalità strutturali e cooperazione territoriale europea. E c'era poi, naturalmente, sotto la conferenza dei direttori, un comitato tecnico con i funzionari dirigenti che è, appunto, responsabile della gestione dei programmi, ma non solo della gestione, ma anche del controllo e delle funzioni poi di valutazione, come vedremo. A supporto del comitato permanente il nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici che è il coordino e che è una struttura che è istituita presso tutte le amministrazioni regionali e alcune amministrazioni centrali, istituita con leggi 144 del 99 che ha proprio la mission istituzionale di promuovere e supportare la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche europee. Perché questa governance? È per presidiare quali funzioni? Per la programmazione unitaria. Unitaria vuol dire una programmazione che superi, appunto, l'approccio tradizionale di programmazione settoriale e quindi separata tra i programmi regionali, FESR, FSE, Sviluppo Rurale, Fondo Sviluppo e Poesione, ma che li veda agire insieme per realizzare degli obiettivi strategici che sono gli obiettivi del Patto per il Lavoro 2015, documento strategico di mandato della legislatura precedente e Patto per il Lavoro e per il Clima che è invece il documento strategico di riferimento per questa legislatura. Rafforzamento amministrativo, condizionalità ex ante generali, monitoraggio integrato, piano di valutazione unitario, appunto, e attuazione integrata territoriale delle politiche finanziate con i fondi. Come era strutturato il piano regionale unitario delle valutazioni 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna? Allora, vedete, a destra i programmi regionali dei diversi fondi, il già citato FESR, FSE, Programma di Sviluppo Rurale, ma anche il programma, altri, un programma di cooperazione territoriale europea che vede la Regione Emilia-Romagna come motorità di gestione, più altri fondi, per esempio il FEAMPAC per pesca acquacoltura, l'FSC che ho già citato. e ognuno di questi programmi ha per disciplina del regolamento europeo una propria valutazione di programma, ma tutti concorrono al raggiungimento di obiettivi, di policy che fanno capo al documento strategico regionale e al patto per il lavoro. e quindi abbiamo previsto un ambito di valutazione di policy trasversali, proprio in cui il focus della valutazione è l'integrazione tra strumenti. non mi soffermo su questo, non vi preoccupate perché è un po' articolato su questo schema, ma solo per dire che siccome è fondamentale presidere la qualità del processo, la Regione si è dotata di un gruppo di pilotaggio della valutazione unitaria, che è quindi partecipato dai responsabili della valutazione dei diversi programmi, e nel cui ambito sono stati discussi le domande valutative, gli avanzamenti e poi gli esiti finali delle valutazioni trasversali di policy, che si sono concentrate su obiettivi strategici del patto e quindi su obiettivi di adattamento climatico, riduzione delle emissioni di CO2, obiettivi occupazionali che erano gli obiettivi prioritari del patto per il lavoro, creazione di un sistema regionale per l'innovazione S3 e politiche territoriali come la strategia nazionale per le aree interne, che è stata attuata nel 14-20 e la Regione di Mila e Romagna è considerata un'esperienza di eccellenza. Quindi, come è stato utilizzato, vi ho rappresentato il processo, abbiamo avuto come esiti un certo numero di valutazioni, sia di programma che valutazioni di policy, come si è alimentata la discussione sugli esiti, quindi delle politiche, e per finalizzata al miglioramento per il ciclo successivo, attraverso la discussione delle evidenze valutative nel gruppo di proprietario della valutazione unitaria e attraverso la presentazione nei comitati di sorveglianza già citati. E quando sono state disponibili proprio, diciamo, le evidenze valutative a termine delle misure, si è alimentata una discussione ampia con i decisori ed è stata utilizzata la conoscenza per l'avvio della programmazione 2021-2027, come le evidenze valutative sono state utilizzate per un miglioramento delle misure, quindi tenendo conto di quelli che avevano avuto migliori risultati e aggiustando quelli che avevano avuto degli impatti meno soddisfacenti, laddove si riproponevano misure analoghe per il ciclo 2021-2027, quindi evidenze alla base delle scelte del documento strategico regionale 21-27 e in più le valutazioni realizzate fin lì sono state sintetizzate in una raccolta, chiamiamola così, che abbiamo definito compendio delle valutazioni 14-20 della regione Emilia-Romagna che ha avuto un utilizzo molto ampio. Ecco qua, questa è una copertina, insomma, è una delle schede del compendio. Come dicevo, le valutazioni sono tutte pubblicate, però tenete conto che le valutazioni, naturalmente anche laddove i valutatori siano snelli, sono comunque dei documenti impegnativi. Quindi abbiamo pensato di proporre delle sintesi di una pagina, una pagina e mezzo, delle valutazioni realizzate, così strutturate, come vedete, titolo e azione di policy valutata, valutatore, link al documento pubblicato, quindi per chi avesse piacere di approfondire, obiettivi e metodo della valutazione, quindi qual era la domanda valutativa, quali erano gli obiettivi conoscitivi e qual è il metodo utilizzato per la valutazione, ma soprattutto risultati e findings. Per findings si intende quelle evidenze valutative, quelle learning che è utile per il miglioramento della politica. Qua, questo è un esempio, non so quanto leggibile, spero di sì, comunque per esempio questa è una valutazione che si intitolava Non è un paese per giovani, quali strategie e interventi per le nuove generazioni nell'area interna della regione Emilia Romagna, realizzata dal nucleo di valutazione, quindi valutatore, nucleo di valutazione, qual è l'intervento, quattro strategie territoriali realizzate in quattro aree interne pilota nella regione Emilia Romagna, quali obiettivi conoscitivi, capire come queste strategie sviluppate con un approccio tra l'altro deliberativo o partecipativo, perché questa è la caratteristica della strategia nazionale aree interne, avevano tenuto conto delle esigenze dei giovani, l'approccio metodologico della ricerca, analisi qualitativa e quantitativa, i risultati da conto sia delle risorse investite sia delle azioni realizzate ma anche di come le strategie in effetti sono riuscite a raccogliere i bisogni specifici delle giovani generazioni e dare risposta. Magari chi è interessato può approfondire, vi posso dire che pur essendoci stato un impegno a tener conto dell'esigente delle giovani generazioni, è emerso come i processi partecipativi classici, i tavoli, i focus, group, eccetera, non riescono a intercettare appieno le giovani generazioni, bisogna pensare a strumenti diversi, a proposito di partecipazione, come diceva Gianfranco in apertura. Questi sono i link a tutti i documenti che ho citato, quindi qua trovate i link alle pagine del portale della Regione Emilia-Romagna, sia del nucleo di valutazione, dove trovate il piano delle valutazioni 14-20, sia del programma FESRE, FSE e programma di sviluppo rurale. Qui invece la pagina dove trovate il DSR 21-27 e il compendio delle valutazioni. Chiuderei con un accenno al lavoro che stiamo facendo per il ciclo di programmazione 21-27 e per poi, così magari rimane qualche minuto se ci sono delle domande, delle curiosità, eccetera. Per il 21-27, la Regione Emilia-Romagna intende dare continuità al piano regionale unitario delle valutazioni, in continuità anche la governance regionale, perché è una governance che consente di lavorare insieme integrando le diverse competenze settoriali. Ci sarà un maggiore, ancora un maggior focus sulle strategie territoriali integrate, quindi la SNAI che in continuità con il 14-20, esperienza pilota, atterra su più aree fragili della Regione Emilia-Romagna e l'agenda urbana. Abbiamo finanziato e stiamo insomma approvando 14 agende trasformative urbane per lo sviluppo sostenibile e il nostro impegno va ad una maggior partecipazione del partenariato nel processo di produzione della conoscenza valutativa. Quindi non solo con i comitati di sorveglianza, non solo con divisione, con anche i firmatari del patto per il lavoro, a un certo punto erano stati aggiornati sull'avanzamento delle attività di valutazione, ma proprio vorremmo organizzare dei gruppi di lavoro per valorizzare la conoscenza del partenariato rispetto alle politiche in corso di processo valutativo. Questa è la scommessa per il 21-27. Grazie per l'attenzione. Questi sono i miei riferimenti. Grazie a te Silvia, grazie mille. Alcune cose abbraccio al volo. Innanzitutto grazie davvero per aver, grazie a te, grazie a Michele e a tutte le colleghe che hanno permesso di far funzionare così questo primo webinar, perché è un minimo da concretezza, nel senso rispetto a una prima carrellata iniziale su una serie di iniziative, piuttosto che regolamenti, piuttosto che normative, piuttosto che ruoli. Grazie al tuo racconto abbiamo capito come effettivamente avvalle di una serie di buoni principi, di normative, poi si possa davvero, in maniera molto operativa, molto concreta, dare continuità a politiche di questo tipo. È molto bello che la regione decide di condividere i propri learning, come hai chiamato tu, cioè non solo di fare autocritica, ma anche di mettere in qualche modo a disposizione di tutti, cioè di creare una sorta di apprendimento collettivo rispetto ad alcune politiche che possono essere. Ed è un tratto molto caratteristico di moltissime delle attività riguardo al accountability, in generale, ma in particolare di quello su cui ci interessava ragionare oggi, di quello su cui ci interessava ragionare oggi, c'è dei processi partecipativi. In fondo, una buona rendicontazione dei processi partecipativi, una buona rendicontazione pubblica in logica del accountability, serve anche a generare una sorta di conoscenza rispetto ad alcuna tematica, che è utile alla pubblica amministrazione che si ferma un attimo a riflettere, proprio in logica di riprogrammazione, in logica a proposito di politiche pubbliche, di cycle project management. Tu chiudi un ciclo apprendendo una serie di cose in maniera tale che il successivo lo puoi realizzare meglio, però certamente è utile alla regione Emilia-Romagna, ma immagino che le stesse learning possano essere utili a tutte le altre 19 regioni che in questo momento sono impegnate su attività molto assolutamente. Se posso dire una battuta, è che il compito delle valutazioni, siccome era in allegato al DSR, è stato portato anche alla discussione in assemblea legislativa e nelle commissioni assembleari prima. Allora è importantissimo mettere a disposizione la conoscenza sia sui successi sia sui fallimenti, però vi assicuro che non tutti i decisori erano così pronti alle giuste, legittime osservazioni, per esempio dei consiglieri di minoranza che naturalmente sono andati a vedere tutte le cose che magari avevano funzionato meno bene, ma è esattamente questo lo scopo di tutto il processo, a comprendere quello che ha funzionato e quello che non ha funzionato e discuterne per migliorare le politiche. Guarda, in apertura di questo webinar si parlava di religione cattolica, calvinisti, l'auto da festa, sicuramente il momento più delicato. Esattamente. Invece come brevissimo ragionamento su un passaggio del racconto di Silvia e come anticipazione rispetto a cui parleremo più avanti, come vedete la Regione Emilia Romagna anche qui non solo ha messo a disposizione tutti i materiali, ma ha anche fatto delle sintesi. Considerate che il 98% delle persone che capiteranno su queste pagine difficilmente ha il tempo, la voglia, la possibilità di leggere tutto. L'idea di andare incontro in logica di trasparenza, di accanto abiti, di accesso all'informazione pubblica, prendendosi cura di come queste informazioni molto profonde, molto strutturate, molto dettagliate possono emergere in cose più comode, più semplici, più sintetiche da realizzare. È una tratta essenziale dell'accountability. Lo vedremo insieme la prossima volta, però parlando anche di infografiche, parlando di come delle tematiche non semplicissime da masticare, da comprendere a disposizione di tutti, le pubbliche amministrazioni possono fermarsi un attimo per provare a migliorare la comunicazione pubblica intorno. Perché è funzionale? Perché oggettivamente pubblicare online centinaia di documenti senza preoccuparsi di fare questo sfozzo di sintesi è più un esercizio, più un adempimento normativo che un momento effettivamente funzionale per rafforzare il ruolo, la trasparenza e l'accountability delle pubbliche amministrazioni. Quindi davvero su questo è un altro learning che si può mettere a disposizione di tutte le pubbliche amministrazioni che volesse rimpegnarsi in iniziative di questo tipo e certamente sarà un passaggio dei prossimi seminari sul tema dell'accountability. Detto questo, Silvia, davvero grazie di cuore, grazie a tutti voi, piacere tutto nostro, ti rigiro e ringraziamenti e complimenti di tutti i partecipanti che hanno partecipato oggi, vi ne approfitto al volissimo per rimettere in chat il link alla pagina di Eventi.pa su cui potrete trovare le slide su cui ho avuto modo di discutere io e anche quella di Silvia piena di link di riferimenti al sito della regione Emilia Romagna su cui approfondire. Vi ringrazio di cuore, grazie a tutti, ci vediamo la prossima settimana, se non ricordo male è il mercoledì 26 aprile, continuiamo a ragionare insieme, insieme alla regione Emilia Romagna delle tematiche del governo aperto e dell'accountability. Grazie a tutti, buon pranzo, visto allora. Arrivederci a tutti, ciao.